Ciao a tutti! Allora, io sono Valentina, questo è il mio canale e questo è un vlog su Londra. Cercherò di fare un vlog unico, cioè in un solo video, di inserirmi in menti più belli e spero di dire ciao! Buona visione! Troppo bella la Londra con il sole! Buona visione! Buona visione sia su Amazon che in privato e veramente ogni vostra parola mi ha troppo, tantissimo emozionato. Io spero che tutte voi possiate avere la possibilità di leggerlo e di cercare di emozionarvi con le mie parole, che per me sarebbe il mio più grande, più grande obiettivo raggiunto. Che dirvi, io mi sto govendo questa bellissima città, in questo momento sono nel giardino di Buckingham Palace, sulla Elisabeth Buckingham Palace, è bellissima, è una città bellissima! Mi ho perso il mio marito nel frattempo! E ora andiamo verso l'Artcock Cafe! Grazie a tutti! Ragazzi, sono a Dye Park, c'è fantastico, mi sembra di essere a Central Park a New York. Dietro ci sono tutti i bambini con le ane, altre, i corvi e uccellini vari, i corvi mi fanno paura, è davvero bellissimo. Comunque, puoi girare la fotocamera di 45 gradi. 45 gradi? Questo è il Tower Woods, uno dei ponti più importanti di Londra. Ciao! 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 Vai! Grazie a tutti. 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 E dopo aver visto la prima location di una notte al museo... Andiamo alla notte al museo 2. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.